Ma le visite di Kenneth a Casteldebole Cominciano a diventare una bella abitudine Frequenti, frequenti Kenneth è ormai diventato parte della famiglia Rosso-Blu E per cui sono felicissimo di poterlo accompagnare tutte le volte Con la squadra svedese Attualmente non è una cosa bellissima per noi italiani Però le ho accolti lo stesso Come l'hai accolto? Male, gli ho detto subito Gli svedesi mi stanno sulle balle Quindi è stato veramente un delirio La settimana scorsa Non traduciamo perché sono 17 Sono in tanti e alti Chi ti sei portato con te questa volta, Kenneth? Questa è sempre la stessa squadra Ma sono i sponsori Dunque abbiamo fatto un altro viaggio E io trovo sempre possibilità di tornare qua Domani pomeriggio Bologna-Sampdoria Ci siete tutti? Sì, sì Sì, è sicuro Invece sono a Bologna-Genova con la primavera Eh vabbè, ognuno c'è Io seguirò con la ragliolina Sperando i due risultati positivi Tutte e due Certo Alla Sampdoria hai sempre fatto tanti gol Viene facile ricordarsi quella tripletta di Genova Uno più bello dell'altro Qual è che preferisci di quei tre gol? Te li ricordo Ma non so, l'ultimo che voleva dire tre punti L'ultimo Bene, appuntamento domani al Dallara allora Sì, a domani Ciao a tutti Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti